magari se anche fate l'amore ve la volete raccontare non c'è problema pubblicate delle stories con una foto ok ciao caprezza e taggate vodafone.it ok vi raccomando aggiungete l'hashtag no no hashtag adb hashtag adb aggiungete aggiungete grazie e mandateli che sono mandateli che sono aggiungete l'hashtag adb per favore mandatemi le veramente scrivete delle cose a sforzo scrivete sotto dei messaggini no le abitudini prima di andare a dormire sono bellissime sono meravigliose ma lui a che ora va a dormire alle 10 vabbè grazie per essere stati con me vi vedo vedo un sacco di cuori vi voglio veramente bene attenzione al di là di di tutto quello che ci stiamo raccontando lo so momento difficile però bisogna stringere i denti no è bemmato ma cosa iscrivi siamo veramente il numero uno nel globo è perché lo siamo ragazzi io metto il telefono in carica il telefono c'è la sezione domande non c'è non è uno scam fatelo anche voi mi raccomando che ragaz fatelo anche voi vi mando un bacio no ce lo siamo persi ciao 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 è ok adesso devo chiudere grazie teoctanos bentornato